Quanto è importante la materia prima per il vostro format di ristorazione? Nel nostro caso direi che è fondamentale, essendo Mou Mozzarella un format basato su un prodotto unico come la mozzarella di Bufala Campana e da questo noi abbiamo creato appunto un format che ad oggi conta 5 ristoranti e siamo partiti da Napoli e oggi siamo presenti a Milano con due punti.